Senatore, questo weekend riapre il Parlamento del Nord, un avvenimento importante, il Carroccio, su cosa vuole puntare? Intanto sentiremo le relazioni dal segretario Bossi agli ex ministri che daranno qualche dritta. Immaginiamo già cosa potrà accadere, prenderemo una posizione sempre più ferma sulla questione delle riforme che verranno portate in Parlamento. La nostra posizione sulle pensioni, che ha lavorato 40 anni e ha già dato a questo Paese, non può essere presa in giro. Patrimoniali col punto di domanda, sicuramente non sulla prima casa, che noi la individuiamo come una necessità. La prima casa è anche quello che corona il sacrificio della famiglia. Se devi stimolare all'acquisizione della prima casa, che se questi non riescono ad avere, li la devi dare come assistenza alla casa pubblica. Una volta che questi fanno sacrifici non devono essere tartassati dallo Stato. Fermi questi due punti, ce ne saranno probabilmente tanti altri. Comunque andiamo tutti con un fiato finalmente ripreso, anche perché per troppo tempo in Parlamento abbiamo avuto le mani semilegate. Adesso con le mani libere daremo anche più soddisfazione ai nostri militanti che finalmente vedono la Lega che avrebbero sempre voluto vedere. E si esprimerà anche un primo giudizio sul governo Monti e sulle eventuali misure che intende prendere, ad esempio sulle pensioni, visto le prime indiscrezioni che sono uscite? I giudizi sul governo Monti sono già stati dati dai mercati e dal sistema paese, che poco dopo averlo consacrato come il salvatore della patria, si è accorto che i problemi rimangono. Non erano legati né al governo precedente né al premier precedente, ma sono speculazioni internazionali dei quali gli stati stessi si devono proteggere e non dipendono né dai governi, a volte nemmeno dalle politiche dei governi. Sono tormenti, sono tempeste e bisogna avere ombrelli saldi quando arrivano.